In questa quarta puntata tratteremo una tematica cruciale per ogni creatore di contenuti, la differenza tra ispirazione e plagio. Entreremo in profondità in questa questione, esplorando esempi pratici e reali per far emergere i valori fondamentali che guidano i creator nel mondo di YouTube. In un mondo dove sbocciano sogni e si accendono passioni, nasce Creator Journey, il podcast che esplora a fondo l'anima del tuo viaggio creativo. Lascia che Creator Journey sia la stella guida che illumina i contorni emotivi del tuo cammino creativo. Prima però voglio raccontarti una storia. La storia di Giorgia, una creator appassionata che condivide la sua arte attraverso video coinvolgenti. Un giorno, mentre scorre tra le onde virtuali di YouTube, si imbatte in un video di Matteo, un noto content creator. Il suo video sprigiona creatività e originalità, ispirando Giorgia in modi profondi e inaspettati. L'ispirazione scaturisce in Giorgia come una fiamma accesa, bruciando con una passione contagiosa. Tuttavia, lei sa che l'ispirazione deve essere maneggiata con cura. Decide di approfondire l'universo di Matteo, analizzando le sue scelte di montaggio, la sua narrazione coinvolgente e il suo stile unico. Ma il segreto di Giorgia è l'approccio con cui affronta questa ispirazione. Invece di replicare ciecamente il lavoro di Matteo, lei assorbe il suo spirito creativo e lo mescola con la sua anima artistica. Come un pasticcere che aggiunge ingredienti unici a una ricetta già apprezzata, Giorgia crea contenuti che portano il suo marchio distintivo. Inoltre, con umiltà e rispetto, riconosce pubblicamente l'influenza di Matteo. Accanto a questa storia poniamo quella di Luca. Anche lui scopre i video di Matteo, però, in cerca di scorciatoie, decide di emulare in modo quasi identico il suo stile. Copia l'uso degli effetti visivi, la struttura dei video e persino la stessa musica di sottofondo. La mancanza di originalità è chiara come il giorno e il fatto che stia palesemente emulando è evidente agli occhi di chiunque. Ma ciò che rende questa azione ancora più grave è che Luca non attribuisce alcun credito a Matteo. L'atto di copiare si trasforma in una violazione dell'integrità creativa di Matteo. La comunità online non tarda a rilevare limitazioni insibida e le conseguenze per Luca sono sia morali che pratiche. Le storie di Giorgia e Luca ci gettano nel cuore della differenza tra ispirazione e plagio. L'ispirazione è un vento che soffia leggero, portando spunti e idee da condividere e far crescere. È una forza positiva che spinge i creativi a nuove altezze, a esprimersi con profondità e passione. Riconoscere l'ispirazione significa rispettare la fonte da cui proviene, onorando il lavoro dei nostri compagni creator. Il plagio, invece, è come un'ombra che oscura la luce. È un atto di furto dell'anima creativa, un tentativo di sfruttare il lavoro altrui senza dare credito o rispetto. Viola la sacralità dell'espressione artistica e priva il creator della possibilità di scoprire e coltivare la propria voce. Queste storie ci ricordano l'importanza di abbracciare l'ispirazione in modo rispettoso, mentre si costruisce il proprio percorso creativo. Il mio invito è semplice. Siate come Giorgia. Riconoscete l'ispirazione e create contenuti che riflettono la vostra essenza unica. Allo stesso tempo, evitate di essere come Luca, che cade nella trappola del plagio facendo scemare la propria autenticità. Andando più nel pratico, voglio citarvi alcuni esempi di plagio che, attenzione, non vogliamo parlarne dal punto di vista legale, e violazioni del copyright su YouTube. Quando un creator copia un video di un altro senza permesso o senza attribuzione, sta violando il copyright e appropriandosi indebitamente del lavoro di un'altra persona. Lo stesso vale per il riciclo di contenuti senza portare un valore aggiunto, poiché manca dell'originalità richiesta. Un altro esempio comune riguarda il re-upload di video di altri creator. Questo accade quando un individuo scarica il video di un'altra persona e lo carica nuovamente sul proprio canale, spesso senza alcun cambiamento sostanziale, o a volte spacciandolo per la cosiddetta re-action. In tal modo, il re-uploader tenta di trarre vantaggio dal lavoro altrui, guadagnando visualizzazioni iscritti senza creare contenuti originali. Questa pratica va contro gli stessi pilastri su cui si basa YouTube. Creatività, condivisione e rispetto reciproco. Ogni video è il frutto dell'impegno, del tempo e delle passioni di un creatore di contenuti, e appropriarsene senza permesso è una violazione della fiducia e dell'etica della community. Inoltre, ci sono casi in cui un creator utilizza parti sostanziali di un video altrui, magari un'intera sequenza o un frammento rilevante, senza attribuzione o consenso. Questo tipo di violazione può essere dannoso per il creatore originale, poiché mina la possibilità di guadagnare attraverso il proprio contenuto e sminuisce il valore del lavoro svolto. Un'altra forma di violazione spesso discussa su YouTube riguarda l'uso non autorizzato di materiale protetto da copyright, come musica, immagini o clip audio. Utilizzare contenuti protetti senza l'autorizzazione del titolare e dei diritti d'autore viola le regole di YouTube e può portare a sanzioni, come la rimozione del video o la sospensione del canale. In questo caso, la chiave è sempre la trasparenza e l'attribuzione. Se si utilizzano elementi protetti da copyright, è fondamentale ottenere il permesso del titolare dei diritti e fornire, quando richiesto, un'adeguata attribuzione, seguendo le linee guida stabilite. Infine, ricorda che l'ispirazione, quando gestita con rispetto e integrità, è una forza potente. Il vedere ciò che funziona nei video di altri creator può stimolare nuove idee e soluzioni creative. La chiave è fare un passo avanti e mettere il proprio tocco unico su ciò che viene appreso. Sviluppare uno stile personale e una voce autentica richiede il coraggio di essere diversi, di esplorare strade meno battute e di abbracciare le proprie passioni. È cruciale, quindi, che ogni creatore di video conosca e rispetti i diritti d'autore e le linee guida etiche. L'ispirazione dovrebbe fungere da faro, guidandoci verso nuove vette creative. Allo stesso tempo, è fondamentale mantenere l'integrità e l'originalità nel processo. Bene, grazie per esserti unito a me in questo capitolo di scoperta e riflessione. E mentre continui a creare con rispetto, ispirazione e passione, ti aspetto con entusiasmo alla prossima tappa di Creator Journey.